e dopo 4 anni siamo arrivati alla ricetta numero 100 da oggi diventano tutte quante pubbliche perché finora erano tutte private che io le mandavo semplicemente ai miei amici che vivono da soli per invogliarli a non mangiare sempre cibi surgelati o sughi pronti ma per fargli capire che se sono capace io che non sono un cuoco e non ho mai fatto corse di cucina sono capaci tutti e quindi da oggi poi tutte pubbliche quindi commentate, scrivete qui sotto come le fate voi suggeritemi la vostra così pure io me le faccio meglio mettete mi piace, arrottate collo, iscrivetevi, condividete, fate di tutto e andiamo alla ricetta di oggi andiamo con le pennette arrabbiate, il piatto più romano fra tutti i piatti ci abbiamo pennette o mezze penne a scelta vostra peperoncino, quanto ne volete, anzi tantissimo peperoncino prezzemolo, sale e un barattolo di pomodori da 400 grammi per mezzo pacco, per due e mezzo di penne e olio extravergine d'oliva perché è l'unico olio che si usa in cucina allora come prima cosa prezzemolo ce lo andiamo a sminuzzare lo mettiamo qui in una ciotolina vai ecco le forbici semplicemente senza perdere tempo col coltello sul tagliere se fa così e se sminuzzare fino 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 di prezzemolo ce ne va tanto perché stempera il piccante ecco fatto e questo qui ce lo mettiamo da parte e all'ultimo lo spolveriamo a crudo ok e questi qui sono i peperoncini del mio balcone sono di qualità diverse, anzi andatevi a vedere il video su come si coltivano così se volete ve li fate pure voi a casa e bisogna mettercene tanto perché si chiama arrabbiata proprio perché deve bruciare in gola ho messo l'acqua a bollire io uso quattro di questi peperoncini io so quanto pizzicano ovviamente ogni peperoncino ha un diverso grado di piccantezza quindi dobbiamo cercare di conoscerli prima di utilizzarli se no non sappiamo poi quanto pizzicano e con la forbice sempre io li tengo per il gambetto qui così non li tocco se no se uno si stropiccia gli occhi poi dopo stai tutto il giorno a piangere e ce li sbricioliamo sulla padella ecco l'ultimo e adesso andiamo a mettere l'olio extravergine d'oliva un goccetto d'olio poco ecco un'altra puntina proprio così perché quando ci si mette il pomodoro di olio ne basta pochissimo accendiamo la fiamma la teniamo bassa e facciamo rosolare questo peperoncino e incliniamo la padella come sempre ecco piano piano le bollicine le deve fare chi vuole poi si può soffriggere anche l'aglio io non ce lo metto perché chi mi segue da anni già la sa sta cosa gli amici la sanno che io sono uno che è per l'essenziale insomma quindi l'ingrediente principale deve essere il peperoncino sull'aglio e l'ingrediente principale è l'aglio qui è il peperoncino e quindi visto che viene buono uguale io non me ci spreco a mettere altre cose tutto qua ok io la tiro fuori un attimo dalla fiamma prima di mettere il pomodoro perché sennò con l'olio bollente schizza e vado con i pelati allora e questo qui lo recupero con l'acqua perché a Roma non si butta mai niente e la rimetto sulla fiamma ok da questo momento la fiamma al massimo io vado con l'acqua che ho recuperato e non butto le pennette in contemporanea lo facciamo piano piano vai 11 minuti queste le tiriamo quasi un minuto prima che fa le saltate ok con la fiamma al massimo lo facciamo questo sugo e lo facciamo fare per 10 minuti il tempo della pasta veramente perché le cose che sono buone pure crude in questo caso il pomodoro vanno cotte poco mettiamoci il sale mettiamocene un bel po' perché non ci sta niente di salato su questo sugo ok bisogna sempre dare una leccatina al cucchiaio perché se è troppo agro ci va una punta di zucchero che fa da correttore d'acidità e oramai li colgono che sono troppo ma ancora sono troppo acerbi e quindi sono sempre agri i pomodori ma di zucchero veramente una punta così stocco perché se no diventa dolce quello che conta è la presenza dello zucchero perché veramente gli fa cioè giusto un'altra puntina così basta perché è questo che fa scattare il processo chimico che toglie l'acidità e l'arrabbiata è un piatto invernale è il piatto invernale dei poveri perché tutto quanto questo peperocino mette calore infatti d'estate andarci cauti non perché sia pesante ma perché se no ve fate una sudata che non finisce più insomma ok il succo è pronto il tempo della pasta è arrivato e io vado a spolare lascio la fiamma accesa questa della pasta perché poi ci passo la padella e andiamo una bella ripassata di un minuto con la fiamma al massimo la fiamma più alta che ci abbiamo vai andiamo col prezzemolo smuciniamo per un altro mezzo minuto quanto stempera il prezzemolo appena tocca si sente subito l'odore il bollente e il fresco l'ultimo tutto e signori e signori adesso spegniamolo lo facciamo riposare per mezzo minutino poi ce la impiattiamo e io non vi dico altro che alla prossima e dagli e tutti